Musica Tre autovetture sono state completamente distrutte da un incendio che è divampato a Catanzaro Lido. Il lirrogo si è sviluppato sul lungomare per causa in corso di accertamento. Le auto erano parcheggiate una vicino all'altra per cui si sta anche verificando da dove siano partite le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso e per approfondire la dinamica dei fatti.